come risorsa mi sento di consigliare un libro che ho letto, ho finito di leggere da pochissimo, veramente bello, il titolo del libro è Humanocracy, imprese straordinarie come le loro persone. Questo libro mi ha, non dico folgorato perché in realtà era un qualcosa che già sposavo, però mi ha dato la riconferma che in realtà non siamo neanche nel futuro perché ci sono delle aziende che hanno più di 15.000 dipendenti che lavorano così da anni. Noi ci sentiamo nel futuro ma in realtà non è, per qualcun altro questo è quasi passato, quindi questo è incredibile. La lettura di questo libro fa capire proprio quali sono i meccanismi che non funzionano e anche perché molte aziende non riescono a scardinarli, sia medie che grandi, quindi è molto interessante. Grazie a tutti.